segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te buonasera benvenuta professoressa elza fornero economista insegna a torino le presento michele santoro l'ha colpita quello che dice michele santoro cosa la colpisce è un po non diciamo il conflitto non parliamo di conflitti ma direi la tensione tra passione e ragione tra ragione e sentimento e cioè io in santoro sento molta passione molta passione civile molto molto desiderio anche che le cose vadano meglio di quanto in realtà non siano e il mestiere dell'economista è quello di essere ce l'hanno detto sempre anche per questo che noi siamo giudicati un po tristi coi piedi per terra e poi allora uno dice michele bellissimo quello che lei ha descritto però poi domani mattina cosa facciamo di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto oggi anch'io vorrei che qualcuno domani mattina dicesse io voglio aprire un tavolo non so che cosa abbiano detto oggi i cinesi ho perso le ultime ore di notizie cosa abbiano detto cosa abbiano proposto a putin ma se non è cinesi vuol dire anche russi è perché cinesi se propongono propongono ancora ancora non non si sa quindi non l'ha però sì sì quindi loro stanno cercando un proposto a putin magari per indurlo a cambiare un po atteggiamento e al tempo stesso qualcuno potrà dire a zelensky qualcosa anch'io lo vorrei però il problema è chi lo può fare come lo possiamo fare allora oggi c'è sentito questa dichiarazione no fatta sì diciamo da da putin per l'abbandono del famoso trattato che avevano stipulato dopo il 1991 per chi ci ascolta insomma era un trattato per di moderazione le grandi superpotenze si impegnavano a controllare reciprocamente diciamo la loro arsenale nucleare in maniera anche da creare un progressivo disarmo e potersi dedicare a qualche altra cosa ma lei lo sa che gli americani hanno abbandonato in maniera unilaterale unilaterale il tavolo degli accordi sui missili di medio raggio noi sappiamo che sono stati messi dei missili in romania e che quindi la possibilità di colpire la russia dall'europa si è ridotta di 1600 chilometri cioè non è che putin noi lo vogliamo descrivere come un pazzo come hitler a parte il fatto che non è hitler no e che le sta anche prendendo sul piano militare quindi non mi pare che la prese pure hitler alla fine alla fine la prese pure hitler alla fine ma lui le ha prese dall'inizio guarda su questa storia michele mi dice una cosa per anche per andare nella linea lo specifico della professoressa fornero un problema di sicurezza c'è un problema di sicurezza della russia l'ucraina non è l'europa non è ancora europa parlare di neutralità dell'ucraina non è un crimine è una cosa giusta andiamo scusate pressore io mi cerco di portare poi torneremo alla soluzione della guerra alla fine sui temi di pretta diciamo stabilità economica allora ad esempio io a lei chiedo professoressa ma separarci da questo gruppo andare con una nostra proposta oppure andare con una proposta diciamo contrastante quella che è la linea che dice e ora a michele santoro da linea politica omogenea e andare a dire no noi la pensiamo diversamente cosa comporterebbe dal punto di vista economico perché diceva prima michele santoro qua è un contesto è un contesto fatto di politica è un contesto fatto di economia è un contesto fatto alle rigide regole dell'europa che ci impongono delle posizioni arriva la meloni che dice il contrario arriva qua e sembra draghi allora intanto l'europa non ha una voce unica e quindi se noi dicessimo ecco adesso noi vogliamo che l'europa proponga lei e io possiamo condividere questo che ci sembra importante guarda io la scorsa settimana ero in francia c'è una mia collega che tra l'altro è stata anche viceministro anche lei delle pensioni e lei vive a varsavia e lei mi diceva che è molto contraria al governo attuale dice però elsa i polacchi hanno paura dei russi i polacchi hanno ragione ad aver paura professoressa ma viviamo in una gabbia economica questo che l'europa ha tante idee e quindi esprimere su una questione così delicata così pervasiva così universale una voce unica e dire questa è la voce dell'europa chissà se mai ci arriva su questo santoro poi andiamo sulla gabbia economica con i temi del super bonus prego ma allora non vuoi continuare a parlare della guerra ma noi dobbiamo capire perché si fanno le guerre cioè le guerre non è che si fanno per queste ragioni nobili c'è in questa guerra uno scontro pesante sull'energia avete sentito giorgetti ci aveva promesso no la famosa riduzione del 44 per cento è diventato il 34 ma la riduzione c'è stata tuttavia rispetto all'anno scorso gli italiani pagano il 35 per cento in più per quanto riguarda il gas certo e a questo dobbiamo unire la benzina a questo dobbiamo unire le altre voci che compongono il panel dell'energia e noi paghiamo tutto molto più caro che dall'inizio di questa guerra questa situazione su chi si riflette questa è la domanda che vi faccio non si riflette sui vertici della piramide a ogni guerra a ogni emergenza a ogni pandemia quello che segue è che quelli che stanno sotto vanno ancora più sotto e quelli che stanno sopra vanno ancora più sopra allora per uno che guadagna 30 mila euro al mese abbiamo rosicchiato la sua busta paga 30 mila euro all'anno scusate abbiamo rosicchiato la busta paga di 3 mila euro all'anno cioè questo è come se ne prendesse 27 27 mila ma perché chi arriva al governo lamentando queste situazioni poi si comporta come quello prima che bisogna avere coraggio di mettere in discussione certi meccanismi quali anche quelli dell'europa anche quelli dell'europa perché non ci possono essere dei meccanismi costrittivi sul piano economico che non siano supportati da un'unità politica allora se noi possiamo il problema della sostenibilità della variabile che bisogna rispettare a tutti i costi quella della struttura economica in cui ti trovi l'europa la sostenibilità non è un concetto matematicamente misurabile in modo preciso noi parliamo per esempio di sostenibilità del debito pubblico di sostenibilità ambientale di sostenibilità anche di certe misure di politica economica se vuole io glielo anticipo subito penso che per esempio il super bonus non fosse una misura o non sia una misura sostenibile è che la sostenibilità dipende da quello che lei santoro io tutti quelli che sono qui e che sono in italia o nel mondo pensiamo di una certa cosa è un certo punto certo ci vogliono tempi diversi per basta una notizia per pensare che il debito pubblico italiano non è sostenibile e allora se non è sostenibile tu cominci a dire ma io i titoli del debito pubblico non li voglio più la banca centrale visto che c'è già troppa moneta in circolazione non li compra più e tu cosa hai fatto e allora uno che governa e che non sta all'opposizione e può dichiarare quello che gli pare ma uno che governa ha la responsabilità di evitare almeno se possibile le grandi tragedie chiunque lui sia meloni draghi gentiloni prego ribatterei un pochino questo ragionamento perché l'ho sentito molte volte e da fonti molto autorevoli la principale draghi che ci spiega queste cose però se io vado indietro nel tempo e cerco di capire questo realismo questa sostenibilità dove ci ha portato io quello che vedo è che le austerità le pandemie le guerre vengono pagate sempre dagli stessi e che le condizioni di vita degli italiani non migliorano nei punti essenziali cioè l'istruzione non è migliorata dal 2008 a oggi i nostri medici i medici sono costretti ad andare all'estero a lavorare abbiamo dato 10.000 medici italiani all'europa e adesso dobbiamo andare a prenderci i medici che vengono dall'est europeo da cuba addirittura questa è la situazione che abbiamo quindi scuola università sono in pessimo stato l'ultima cosa voglio dire quelli che stanno dentro i quartieri popolari e che possono pensare di uscire da un quartiere popolare con un titolo di studio di emancipare la propria famiglia per facendoli fare un salto di qualità oggi quanti sono sono pochissimi bisogna aspettare tre quattro generazioni per avere la possibilità di migliorare le condizioni della propria famiglia se sono indigenti con quanto tempo ci vuole per fare un cavolo di esame dentro un ospedale è migliorato dal 2008 rispettando la sostenibilità dice santoro tutti questi grandi tecnici professori una cosa che tutto quello che lei ha detto non ha tanto a che fare con la sostenibilità delle variabili economiche ha a che fare con una questione molto semplice che si chiama giustizia distributiva e la giustizia distributiva la si può perseguire se solo si vuole anche nei tempi difficili basta dire che se le risorse sono poche le si prende soprattutto da chi ne ha di più e magari le si chi ne ha di meno torno sulle misure guardi che questo è possibile e le ricordo santoro mi scusi le ricordo che un governo che poi è diventato molto impopolare come il nostro chiamato a mettere rimedi a una situazione che sembrava ormai rotta bene il nostro governo aveva messo un'imposta sulla casa la casa è la forma principale di ricchezza degli italiani forse avremmo dovuto fissare un livello più grande ma quello era tassiamo i ricchi per cercare di tenere qualcosa su chi ha di meno allora avevamo detto avevamo detto che avremmo tassato i super redditi no per esempio dell'eni per 10 miliardi mi risulta che siamo arrivati a 2 miliardi 2 miliardi e mezzo dopodiché vedo che il vero ministro dell'energia del tesoro di tutto il vero autore della politica estera del nostro governo è diventato il manager che a capo dell'eni no che sarà un significato in questo qual è il taglio qual è il significato il significato che ormai l'eni conta più dello stato italiano altro che sovranisti al potere arriva il sovranista deve diventare amico del vediamo no siamo perché la variabile economica determina le variabili politiche quello allora secondo me noi dobbiamo prima di tutto dobbiamo interrompere questo circuito di arricchimento continuo delle rendite finanziarie alte cioè dobbiamo mettere un limite a questo e dobbiamo riuscire a indirizzare le risorse economiche sulle priorità che noi riteniamo importanti per esempio il super bonus il super bonus va bene chi se lo poteva pagare il super bonus con uno sconto fiscale avrebbe fatto bene ad anticipare i soldi perché aveva i soldi per pagarselo però io potevo usare il super bonus nel quartiere popolare da riqualificare completamente allora questo avrebbero lavorato le risorse dove vanno indirizzate invece no noi teniamo in piedi il meccanismo che c'è noi teniamo in piedi la fiat fino allo stremo gli agnelli fino allo stremo i benetton fino allo stremo e non ce ne freghiamo niente di quelli che stanno da un'altra parte sai michele santoro chi sta uscendo dalle righe di questo filo di sistema omogeneo di cui parli dalla politica all'informazione la politica estera quella economica silvio berlusconi oggi zelensky ha parlato proprio di berlusconi sentiamo cosa ha detto signor berlusconi non credo che abbia mai avuto la casa bombardata dai missili quotidianamente e grazie a dio che nel suo giardino di casa non si è mai presentato il suo collega della federazione russa con il carro armato e che non ha mai ucciso i suoi cari che ruolo sta giocando silvio berlusconi in questa andato putin ma senza cararmato mettiamolo così ecco si è presentato nel giardino ma non aveva il carro armato si berlusconi è andato nel giardino di putin e non sono il giardino ora vi chiederò perché c'è un filo scusate c'è un filo la professoressa fornero arriva mi sembra una battutaccia zelensky ogni tanto scade diciamo a questi livelli che sono un po il ricordo della sua vecchia professione diciamo di attore cioè battute che sono facili ed efficaci io credo per esempio che sono stato e sono un avversario di berlusconi però un avversario sempre leale io penso che berlusconi per esempio sulla pace ha sempre avuto un'idea abbastanza pacifista cioè non è per niente uno guerra fondata poi ha fatto un sacco di errori anche in politica estera ha accreditato per esempio i bombardamenti della libio quando lui era contrario a che avvenissero insomma ha fatto anche degli errori ma come persona per come l'ho conosciuto io lui è molto refrattario alla guerra c'ha un'idea che è contraria la però mi sento di dirlo poi potete controllare diciamo queste mie dichiarazioni ma sono convinto che sia allora però arrivò la professoressa fornello con il governo monti dovrebbe rispettare quelli che hanno comunque votato per mandargli le armi perché berlusconi ha votato per mandargli le armi quello sì ecco allora il punto è questo lei professoressa arrivò dopo che con silvio berlusconi lo spread arrivò a situazioni sostenibili e faceva pensare che gli altri paesi non ci avrebbero comprato più titoli di stato quindi se ne andò berlusconi arrivò a monti in qualche modo si potrebbe dire seguendo il ragionamento di un sistema che si autotutella commissariato dal sistema direbbe forse michele santoro cioè e quel sistema per stare in piedi non aveva più bisogno di silvio berlusconi i tempi ritornano silvio berlusconi adesso viene anche assolto diventa di nuovo un diciamo una scheggia impazzita che può far saltare quel sistema che sostiene zeleschi che in qualche misura può far saltare la maggioranza almeno dar fastidio alla maggioranza di giorgia meloni guardate abbiamo intervistato ehm il presidente gentiloni guardate cosa dice di giorgia meloni perché all'estero in qualche modo la stanno anche apprezzando guardiamo gentiloni ma io penso che l'unione europea ma in generale la l'occidente abbia due terreni fondamentali per misurare l'atteggiamento e le decisioni del governo italiano il primo la coerenza del sostegno all'ucraina il secondo tema riguarda le scelte economiche e devo dire che fin qui anche nella discussione che c'è stata sulla legge di bilancio italiana l'italia ha lavorato portando avanti le proprie opinioni naturalmente sostenendo i propri punti di vista ma nel contesto europeo e non certo contro l'europa è un sistema che digerisce le differenze no questo vuol dire semplicemente che le cose dette prima erano velleitarie c'è uno in campagna elettorale può dire guardate io vi risolvo questo vi risolvo quell'altro ma poi i problemi li devi risolvere nel concreto le scelte le devi fare perché è qui che la nostra appartenenza all'europa io dico grazie a dio c'è ed è un valore per noi poi ci sono anche i vincoli è vero ma i vincoli dipendono dal fatto che se uno sta in un'alleanza non può comportarsi in maniera assolutamente stravagante così con me non è più un valore inoltre così con me non è più l'europa secondo me stiamo tornando stiamo tornando agli interessi nazionali della germania della francia l'europa dopo questa guerra è fortemente indebolita quasi inesistente l'unica cosa che rimango sono i vincoli economici però io credo che questo sia un limite non sia una bandiera da sollevare perché io lavoro tanto con i giovani tantissimo ebbene i giovani si sentono europei ma pure io mi sento europeo che vuol dire non sono giovane ma mi sento europeo è l'europa che non c'è noi europei ci siamo è l'europa che non c'è l'europa come ma scusi ma come si fa a far venire una potenza lontana d'oltre manica a risolvere i nostri problemi qui in europa noi dovevamo impedirla questa guerra potevamo impedirla noi avevamo la merkel e macron che erano garanti di accordi e oggi la merkel si permette di dire che ha firmato quegli accordi che portavano alla pace tra l'ucraina e la russia gli ha firmati per dare il tempo agli ucraini di armarsi ma si rende conto vuol dire che di fronte al fatto che gli americani avevano deciso di armare l'ucraina la merkel ha fatto finta di non vedere macron si è girato dall'altra parte si devono vergognare di questa guerra che c'è stata putin ne porterà sempre le mani sporche di sangue fino a che vive e anche dopo ma gli altri quelli che si sono girati all'altra parte che non sono andati da lui quando era il momento per dire fermati che la troviamo una soluzione e voi americani statevi a casa vostra gli dovevano dire invece non l'hanno fatto ma è lì è lì che noi avremmo avuto alcuni paesi che no no e noi gli americani li vogliamo perché gli americani sono quelli che fanno parte dell'alleanza atlantica la polonia è difesa cioè stiamo parlando di paesi che hanno sottoscritto un accordo militare del quale facciamo parte anche noi se putine si permette di aggredirli la risposta militare sta negli accordi l'ucraina vogliamo continuare a dire che fa parte già della nato non faceva parte della nato questa è la verità però dice la professoressa noi la ci saremmo scomposti non solo ma io non vedo un'alternativa pratica poteva essere praticata che sia migliore di questa europa molto imperfetta molto latitante sui temi che ci stanno molto a cuore non vedo un'alternativa qual è l'alternativa che ciascuno di noi vada per conto suo indebolendosi smarrendosi questo non è possibile neanche più la meloni lo penso è che l'alternativa la cercano l'alternativa la cercano quelli che stanno sotto è che non credono più in questo discorso della sostenibilità il punto è come ci si raccorda a queste persone che stanno in sofferenza come si va a raccogliere le voci della realtà e ad ascoltarle perché altrimenti li costringiamo sempre a farlo attraverso internet e scelgono quello che gli sembra migliore nella nella propaganda che si fa su internet e sui social facciamoci rivedere un attimo qualcuno di noi dalle persone in carne ed ossa prendiamoci pure gli schiaffoni non sapessi quanti ne ho presi io la professoressa su questo non può essere scusa sclaino bonaccini ad esempio che fa sclaino bonaccini voteresti tu alle primarie ah no ci mancherebbe non ho votato le ultime qui figurati le primarie no ma scusa ma tra i due chi ti piace abbiamo fatto due elezioni una nel lazio e una in lombardia che potenzialmente erano contendibili due regioni potenzialmente contendibili dove erano bonaccini e lashlein cosa pensavano si sono nascosti perché il loro problema è che nessuno dei due voleva la colpa della sconfitta io non li voglio dei leader così io voglio persone che vanno in battaglia perdono e poi si rialzano e continuano a combattere così potranno essere sfidanti nei confronti della meloni perché la meloni è così la meloni è una che da terra poi si rialza ecco la meloni la meloni era così anche lei sta cambiando perché il governo la responsabilità di governo cambia tutti guarda resti con noi professoressa e tu che fai michele michele santona la responsabilità logora chi ce l'ha il governo trasforma chi ce l'ha servizio pubblico il potere si sapeva chi ce l'aveva adesso invece sta in europa e non si può toccare piccola pausa arriva giuseppe conto e tu che fai il con l'eliseo michele santoro il 24 febbraio grazie a tutti